Buonasera a tutti, come sempre vi chiedo di fare una domanda a testa e di presentare voi la vostra testata. Se ci sarà tempo alla fine faremo ancora altre domande. Chi inizia? Buonasera, a poco più di dieci giorni dalla partita con la Roma dell'Olimpico, che partita si aspetta domani? Basta vedere i risultati e la Roma sta facendo un trasfetta per capire se la partita ci aspetta. Una partita difficile, la Roma in trasfetta riesce a segnare in casa e subire la metà. Ha fatto più punti in trasfetta e in casa, quindi è una partita difficile oltre una squadra di ottimo livello, oltre una squadra più caratteristiche e ci può rendere la partita molto delicata, molto difficile. Sarri, buonasera, Paola Gamo di Sky Sport. Parlando della Coppa Italia, pensando alla partita che abbiamo visto con l'Udinese, con Douglas Costa al primo minuto, quel tipo di tridente, è riproponibile contro un avversario come la Roma? Penso di sì. Poi alla fine l'importante in campo è essere equilibrato e avere ordine. Tutto lì, gli interpreti possono cambiare, possono rimanere gli stessi, ma poi l'aspetto fondamentale è quello, riuscire con diversi giocatori offensivi a rimanere una squadra ordinata e rimanere una squadra equilibrata. Quindi vediamo qualcosa, ci dobbiamo studiare, vediamo le condizioni della squadra domattina. Oggi abbiamo fatto un allenamento intermedio, abbiamo fatto un po' di tattia solamente, ma senza grande dispendio di energie fisiche, come è normale a 36-40 ore dall'ultima partita. E poi domattina valutiamo e decidiamo. Sinceramente io ancora non ho deciso niente, anche il modulo. Gioandosi ravvicinato è normale. Buonasera mister, Sergio Baldini, Tutto Sport. Volevo sapere come stanno Quadrado e Alessandro. Quadrado oggi era sfebbrato, vista la giornata abbastanza fredda, però l'abbiamo tenuto a fare un po' di allenamento, un palestra, per non esporlo alla temperatura e Alessandro non ha danni gravissimi, ha qualcosa del muscolo trasverso. Non è che si stia parlando di un muscolo particolarmente importante per il calcio, però anche lui è da valutare, siccome è da valutare Quadrado, se domani è ancora sfebrato, penso che sia reoperabile. Buonasera Romaincassico al punto com. Una curiosità tattica. Nelle ultime partite ha fatto giocare De Ligt sul centro-destra e Bonucci sul centro-sinistra. Le chiedo come mai rispetto all'inizio stagione questo cambiamento, grazie. Ma era un qualcosa che abbiamo cominciato a fare con l'ingresso di De Miral e poi Bonucci si è sentito a suo agio anche in quella posizione e abbiamo deciso di andare avanti così. Buonasera mister, a te vero di Mediaset. Le chiedo quando capita come adesso, sia per voi che per la Roma, una partita così importante domani e altrettanto importante le partite di domenica, la Roma al derby che ovviamente ha vari valori e voi avete il Napoli. Si riesce a fare un ragionamento solo su questa partita o si deve lavorare anche in funzione di quella dopo per evitare proprio che ci possa essere qualche problema? Queste sono situazioni, come ho sempre detto, si può fare delle valutazioni per un giocatore più importante in una partita o nell'altra, poi l'imprevedibilità che c'è dentro le partite non è che ti può portare a una programmazione su 5-6 giocatori e quindi poi bisogna passare il messaggio e la partita importante è quella di domani. Poi da giovedì la partita più importante è quella dopo, è quella in Napoli, però non andiamo a fare valutazioni, come ti ho detto, su 5-6 giocatori. Se ne può andare a fare su uno se si ritiene particolarmente adatto alla partita successiva, ma su 5-6 no. Gamba Repubblica, non so se anche Ronaldo rientra in questi discorsi oppure per lui puoi già dire se ci sarà uno turnover e sempre su Ronaldo volevo chiederti se, mi rendo conto che forse è una domanda strana, se sei preoccupato che stia andando così bene proprio adesso? Cioè di solito leggermente un mese in anticipo rispetto a quello che generalmente è il suo periodo migliore perché lui in meglio l'ha sempre dato la fine e sembrava in avanti sostanzialmente quando riprendeva la Champions. Io spero il bene sia come il male, non ci sia mai fine. Nel senso che voglio pensare in maniera positiva e voglio pensare che la mia squadra ha sempre margine di miglioramento. quindi vediamo, causa l'età non mi ricordo più la prima parte della domanda. Se domani la parca anche il domani, la parca anche la partita. Se domani? Se domani è anche Cristiano. Ah Cristiano valutiamo domattina, se lui sta bene penso sia nel momento in cui può fare le tre partite in una settimana, anche se tra l'altro è diverse settimane e non sta facendo le tre partite. Quindi non lo vedo come un grandissimo problema. Però bisogna che lui si senta chiaramente nelle condizioni ideali per poterlo fare. Nell'ultima partita non è stato così perché il ragazzo aveva qualche problemino, qualche linea di febbre. Quindi l'abbiamo fatto riposare e il tutto è venuto fuori nell'ora precedente alla partita. Quindi in questo momento penso di sì, poi domattina voglio parlare a fondo con lui e voglio aprire se ha completamente reoperato, se si sente pronto per iniziare a fare le tre partite. Buonasera Fabiana Cavalli, Gattezza dello Sport. Alla luce della partita con la Roma in campionato, visto che è passato poco tempo, la Juve ha vinto, ma c'è stata un po' di sofferenza nel finale, volevo capire se c'è qualcosa che non rifarebbe che cambierebbe nelle scelte. Se noi si pensa di giocare o la Roma e non avere momenti di sofferenza all'interno della partita, abbiamo perso di vista la realtà. La Roma è una squadra forte, momenti di sofferenza all'interno delle partite li mette a tutti, compresi Barcellona mi sembra di ricordare. Quindi è normale soffrire, siamo usciti in tre punti da una partita difficile, però come ti ho detto prima, la Roma ha numeri migliori addirittura a trafetta e non in casa. Quindi la partita di domani prevederei sofferenza allo stesso. Buonasera Mister. Volevo chiedere cosa cambia nella Roma, secondo lei, con l'assenza di Dzeko e la presenza di Kalinic, a livello anche di Juve, di attenzione, di movimenti, se è uguale oppure c'è una sostanziale differenza. Poi se posso ne faccio un'altra. Chiaramente quando si parla di Dzeko si parla di giocatori difficili da sostituire, però Kalinic è un giocatore che può aver avuto dei momenti di difficoltà, ma è un giocatore a livello di movimenti e è un giocatore importantissimo. Grandi attacchi alla profondità, grandi attacchi dell'area di rigore, è un giocatore periodoso di testa, natropazia, quindi è un giocatore completo, anche se poi negli ultimi tempi ha avuto delle difficoltà. Però i giocatori non sono fatti nella partita singola e meritano sempre grande considerazione e grande attenzione. La seconda domanda è relativa al giocatore della Juventus. Se qualcuno ha bisogno di riposare, e parlo soprattutto, in questo momento magari a Rabiocchi invece ha bisogno di giocare, però quanto, visto che l'ha fatta così tutta la titolare, senza quasi messe sostituzioni, come va gestito in questo momento? Grazie. Vediamo come è uscito. Lui dall'ultima partita ha un paio di colpi abbastanza seri, uno sulla viglia destra, mi sembra, e un pestone sul piede sinistra, aveva un dito del piede particolarmente gonfio ieri, oggi stava già meglio, quindi valutiamo domani se è in condizione di andare dentro. La sensazione è che Adrian sia un giocatore che ha delle qualità fisiche importanti anche a livello di recupero, sicuramente sta crescendo di condizione in questo momento e vedo che riesce anche a rioperare abbastanza bene tra una partita e l'altra. Una fatta diversa ora consecutivamente, domani valutiamo. Ieri ero un po' più pessimista, oggi sono un po' più ottimista. Buonasera, Timoteo Mezzano per Leggo e Corriere. Volevo chiedere di Danilo, se anche lui è un po' in crescita, lo abbiamo visto quasi più a suo agio sulla corsia sinistra contro il Parma che sulla sua, quella destra. E quanto è importante avere comunque un polivalente come lui in questo momento di emergenza? Terzini, grazie. Danilo è un giocatore affidabile, è un giocatore che difficilmente sbaglia la partita, poi ci può essere delle partite in cui è più vistoso rispetto a altre partite, ma la partita Danilo la sbaglia molto difficilmente. Sulla sinistra ha un rendimento molto simile a quello sulla destra, ha qualche problemino più chiaramente in fase di uscita, in fase di impostazione bassa perché il piede preferito è l'altro, però poi a livello difensivo sicuramente ha lo stesso tipo di rendimento. È un giocatore estremamente affidabile, è un giocatore anche di buon livello aratteriale, di buon livello di personalità, è una figura importante all'interno dello spogliatore. Danilo non è una figura secondaria sicuramente. Buonasera mister, buon signore per lo sport. Le chiedo di Guain che è stato titolare in Coppa Italia un po' meno in questo tempo di campionato, come l'ha visto, se può essere il suo momento domani? Grazie. Io l'ho visto bene, sinceramente anche oggi in allenamento era particolarmente vivo, e è chiaro che Guain è un giocatore forte, è un giocatore importante. Noi per motivi di equilibrio a volte lo facciamo giocare insieme agli altri due, a volte al posto di uno degli altri due, ma è un giocatore che sta facendo una stagione di ottimo livello. È un giocatore che poi in questo momento in arriera forse a livello di aratteristica si è leggermente ambiato rispetto al prima, frequenta un po' meno l'area di rigore, ma ha una capacità di giocare con la squadra, e al prima secondo me non l'aveva. Quindi è un giocatore con una qualità non comune. Si ripresenta? Ti vorrei chiedere di due giocatori di cui comunque si parla in chiave a mercato, che sono M.R. Chang e Bernardeschi. Voglio chiederti se in questi giorni li considera il livello degli altri, o aspetti comunque che chiuda il mercato, perché la loro situazione si carisca definitivamente, quindi li... Non mi risulta e poi non mi interessa. Se la società non mi dice altrimenti, per me fanno parte della rosa, e quindi sono presi in considerazione come tutti gli altri giocatori della rosa. Quindi non ho detto, a me non risulta in questo momento che ci siano queste situazioni, e quindi l'altro aspetto è che non mi interessa, cioè se sono a disposizione, sono a disposizione, a meno che non ci sia una situazione mentale particolare da parte del giocatore, ma in questo momento non la vedo. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Daghi non è al massimo, ma fortunatamente questo momento sta bene. Poi con lui è sempre, dice anche stabilire quantità e qualità degli allenamenti, perché è un giocatore a rischio muscolare, quindi certi carichi per il momento abbiamo preferito evitarglieli, e quindi siamo stati noi per scelta a rallentare magari una ripresa della condizione visi a livello massimale, ma l'abbiamo fatto per salvaguardarlo in questo momento da eventuali infortuni. Quindi l'aspetto estremamente rettivo è che un giocatore in questo momento sta ritrovando continuità di allenamento e non è ancora al massimo della condizione chiaramente. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.